Siamo partiti da una delibera che ha costituito un gruppo di lavoro tecnico nell'autunno del 2021 e è iniziato il lavoro di questo gruppo che ha comportato uno studio, un'analisi di tutto quello che si è fatto o si è realizzato in altri paesi fuori dal nostro paese. Sappiamo che in Italia questa struttura di carriera non esiste, non è mai stata realizzata finora. Il gruppo di lavoro ha deciso poi di procedere a un ascolto diffuso sul territorio per cui sono stati incontrati docenti e dirigenti scolastici andando noi come gruppo di lavoro nei territori quindi dalla Val di Fassa a Tione, Cavalese e tutti gli altri, Trento, Rovereto, Riva del Garda eccetera. Abbiamo incontrato docenti che volontariamente sono venuti a questi incontri per esprimere le loro aspettative rispetto a questo progetto o a dare loro suggerimenti. Quindi il progetto è il risultato di una serie di integrazioni avvenute in seguito a questi incontri con docenti e dirigenti. Abbiamo incontrato tanti esperti dalla fondazione, da Andrea Gavosto, Fondazione Agnelli, docenti universitari esperti di lavoro a coloro che hanno sperimentato magari in modo minimale esperienze di valutazione dei docenti. Quindi una serie di esperti che a vario titolo avevano qualcosa da poter dire su questo tema. Quindi è stato elaborato, redatto un progetto, un documento che ha descritto le finalità e le modalità con cui realizzare questa progressione di carriera e a luglio del 22 è stato presentato all'assessore e al presidente della Giunta che avevano dato l'incarico a questo gruppo di lavoro.